Uslo Web Radio, la radio che non ti giudica con telefonate in diretta. Buongiorno a tutti, sono Angelo Marzo e per Uslo sono qui con il Presidente degli Ordini degli Avvocati di Lecce, il Professore Avvocato Antonio De Mauro. Antonio, dopo tantissimi anni, finalmente il Congresso torna a Lecce. Io forse non mi ricordo, però insomma so che in quell'epoca c'era Don Vittorio Amone. Qual è il tuo stato d'animo prima di tutto e poi che cosa può portare questo congresso? E un'ultima domanda, così la tua intervista va in diritta, cosa ti aspetti da questo congresso per noi avvocati? Allora intanto il mio stato d'animo è quello di uno stato d'animo particolarmente lieto, grato e al tempo stesso onerato di questo impegno che vede il Foro Leccese ospitare tutta quanta l'Avvocatura. Quello che tu hai tracciato come percorso ideale in questi 40 anni che ci separano dal precedente congresso, che era del 79 sotto la presidenza di Don Vittorio Amone, in realtà ci consegna un'eredità estremamente impegnativa. Grazie alla consigliatura precedente, in particolare a Roberta Altavilla, il cui impegno ha portato il Congresso a Lecce e spero che la celebrazione della massima assise dell'Avvocatura possa in qualche modo, e vengo ovviamente all'ultima domanda, far riflettere non solo noi avvocati, perché anche noi avvocati abbiamo bisogno di riflettere sul nostro stare insieme e sulle regole che disciplinano il nostro stare insieme. Infatti uno dei temi congressuali è proprio riferito a una riflessione sull'ordinamento professionale. Ma al tempo stesso possa, proprio perché il Congresso ha il ruolo, potremmo dire, privilegiato di interlocuzione tra l'Avvocatura e le altre componenti della società, fare in modo che l'Avvocatura con un'unica voce, dire unica voce non significa parlare del pensiero unico, ma parlare di una riflessione che possa emergere in maniera unitaria dopo il doveroso dibattito che è proprio poi di noi avvocati, quindi la individuazione di quelle che possono essere le esigenze di una professione che cambia, di una professione che per certi versi è in crisi, di una professione che necessita di una riflessione approfondita su tutti quanti i temi che le interessano, sulle modalità di svolgimento, sulla sostenibilità, sul confronto con le nuove discipline, faccio riferimento a questa stagione di riforme che è stata avviata e sostanzialmente concretizzata dalla Ministra Cartabbia, quindi mi pare che vi sia veramente parecchio materiale, parecchi argomenti su cui discutere. Io spero che da questo congresso esca, come dicevo prima, una voce unitaria dell'Avvocatura che possa proporre al Paese, quindi all'organo politico, quelle che possono essere le riforme utili per noi avvocati, ma forse direi soprattutto per i nostri assistiti, perché poi in realtà l'Avvocato non è nient'altro che è un professionista che pone la sua attività tecnica al servizio della tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini. Io ti faccio l'ultimissima domanda, se questo congresso può rappresentare anche una via di svolta per quanto riguarda l'unità dell'Avvocatura, perché io come te abbiamo qualche anno sulle spalle di questa professione? Io anche di vita un po' di più, però vedo uno scollamento fra le varie enti, fra le varie associazioni e fra l'Avvocatura e la base dell'Avvocatura. Per invogliare l'Avvocatura a partecipare al dialogo, alle istituzioni, che cosa bisogna fare? Bisogna dare delle spinte? Bisogna essere più credibili o è proprio il nostro vizio endemico? Allora, certamente l'Avvocato è affetto e afflitto da un particolarismo e da un individualismo e questo forse è connaturato alla nostra professione. Devo dire però che in realtà l'esigenza che tu manifesti è un'esigenza assolutamente corretta e sentita da parte degli organi istituzionali. Io in questa mia breve esperienza alla Presidenza dell'Ordine noto come in realtà vi siano esigenze contrapposte che provengano in maniera differente dai diversi livelli nei quali si può articolare l'esercizio della professione forense. E credo che l'appeal forse perso nei confronti dei giovani da parte dell'Avvocatura in qualche modo debba essere rivitalizzato attraverso una riflessione sulle nuove frontiere che si possono aprire per l'intervento dell'Avvocato all'interno delle dinamiche sociali e delle dinamiche interpersonali. Intendo dire che forse il modo tradizionale di esercitare la professione in qualche modo risente di una difficoltà anche di interazione del ceto forense con la struttura della giurisdizione complessivamente considerata. In questo senso quindi l'attenzione verso la base come tu hai detto dell'Avvocatura dovrebbe certamente porre l'attenzione soprattutto da parte degli organi istituzionali alla concentrazione sui problemi che possono affliggere la base dell'Avvocatura. Devo dire che gli spazi di manovra degli organi istituzionali sono delimitati dalle norme che disciplinano l'attività quindi forse è più un'attività politica che deve spingere l'Avvocatura a riflessioni che valorizzino quelli che sono poi le esigenze della cosiddetta base dell'Avvocatura. Secondo me non c'è una base e non c'è un vertice della costruzione dell'Avvocatura. La maggior parte dei problemi sono comuni a tutti gli Avvocati, declinati in maniera diversa a seconda del contesto sociale, a seconda del contesto economico, a seconda dell'organizzazione dei diversi studi ma di certo vi è la necessità di un confronto aperto, franco, con il sistema complessivamente considerato della giurisdizione e con l'attenzione veramente ai problemi anche dell'ultimo giovane che si è iscritto all'albo degli Avvocati e che deve avviare quella che è la professione forense. Bene, grazie ad Antonio De Mauro e speriamo in questo congresso. Grazie, speriamo bene, buona giornata. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouSlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli Avvocati che parla agli Avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. YouSlow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.